Morto l'uomo che si era dato fuoco durante lo sfratto esecutivo, troppe gravi le ustioni riportate dal 42enne brasiliano che è deceduto nella notte all'ospedale di Cisanello. Si ferisce con la motosega, uno straniero residente a Borga Mozzano è caduto sopra l'utensile acceso procurandosi una grave ferita alla testa, trasferito in elicottero non saprebbe in pericolo di vita. Preoccupazione alla Fabio Perini dopo la decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento di Bologna e trasferire la produzione a Lucca, licenziati 67 e 118 per ai bolognesi e i sindacati chiedono garanzie. Nuova casa sulle Apuane per gli alberi di Natale, in tanti hanno aderito all'iniziativa di portare alla baita Paola Barsi nella località Campo all'Orzo, gli alberi di Natale dismessi dalle passate festività per donargli nuova vita. Per lo sport venne la domenica del gatto pardo sconfitta in casa dal Borgo Sesia, la lucchese perde la ghiotta a occasione di balzare al comando della classica, ma cadono anche le altre grandi e così più presta invariato. Il momento non della Nottolini, bianco-nere battute 3-1 a Perugia da un buon 3M, non basta l'ottima prova di una grande Sofia Renieri, infortunio a Laroni e la società torna sul mercato. Ben trovati al TG Noi, dunque è tragico l'epilogo dei fatti avvenuti ad Alto Pascio, e il brasiliano che si era dato fuoco durante lo sfratto in esecutivo non ce l'ha fatta ed è morto a Cisanello. Non ce l'ha fatta Edson Filo Pignero da Silva, l'uomo di origine brasiliana che si era dato fuoco ad Alto Pascio lunedì mattina durante una notifica di sfratto. Troppo estese e profonde le ostioni riportate dal brasiliano che nella notte è deceduto all'ospedale di Cisanello dove era stato trasportato in condizioni disperate. Il dramma si era consumato nella tarda mattinata quando alla porta dell'appartamento di Corte Panattoni si erano presentati gli ufficiali giudiziari ed i carabinieri per procedere allo sfratto esecutivo del 42enne. È stato in quel momento che l'uomo ha dato un'escandescenza barricandosi in una stanza e presimovibilmente cospargendosi di liquido infiammabile per poi darsi fuoco. L'uomo doveva aver lasciato anche il gas aperto perché subito dopo una violenta fiammata invaso locali della casa. Subito soccorso da carabinieri e da vicini, a corsi richiamati dalle gride e dal rumore del rogo, era stato trasferito a Cisanello con l'elisoccorso Pegaso con ustioni su oltre il 70% del corpo e qua è deceduto durante la notte. L'incendio innescato aveva distrutto l'appartamento e reso inagibile quello al piano di sopra e un seminterrato. Nel tardo pomeriggio di lunedì le volanti della polizia hanno arrestato a San Donato una badante bulgara di 57 anni per lesione e danni dell'assistita, una donna di 89. A causa di una banale discussione infatti la badante, in prova da pochi giorni, ha aggredito l'anziana donna la quale ha urlato aiuto. Una vicina di casa, sentendole urla, ha chiamato il 113, quando gli operatori sono giunti sul posto, hanno trovato l'anziana signora con un livido sul viso e la badante in stato di grave alterazione, tanto che si è scagliata anche contro i poliziotti con manate, sputi ed insulti. Tenuto conto della gravità del fatto, gli agenti hanno provveduto ad arrestare la donna per lesioni personale e resistenza pubblico ufficiale. Adesso occupiamoci di un incidente che poteva avere delle conseguenze ben più gravi avvenute a Borgamozzano. Cade sulla motosega accesa e si ferisce gravemente alla testa. Il brutto incidente è avvenuto nella mattinata di martedì nel territorio di Borgamozzano. L'uomo, uno straniero residente nel comune, stava tagliando della legna, quando, accidentalmente, è scivolato andando a sbattere con la testa sulla lama della motosega accesa. Benché gravemente ferito, è riuscito a raggiungere il punto di primo soccorso della misericordia. Qua i medici lo hanno medicato e caricato sull'ambulanza e si sono diretti verso il San Luca. Durante il viaggio, però, i sanitari hanno ritenuto di dover trasferire il ferito a Cisanello per approfondire gli accertamenti vista la gravità della ferita. È stato dunque fatto alzare in volo l'elisoccorso Pegaso 3 che ha preso in consegna il ferito sugli spalti adiacenti allo stadio Porta Elisa. L'uomo, nonostante la grave ferita, è rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Voltiamo pagina e occupiamoci di lavoro perché c'è apprezzione da parte dei sindacati per la decisione della Fabio Perini di chiudere lo stabilimento di Bologna e trasferire la produzione a Lucca. Ci sono stati 66 licenziamenti. C'è preoccupazione da parte delle organizzazioni sindacali e dei dipendenti della Fabio Perini di Mugnano per la situazione riguardante lo stabilimento di Calderara a Bologna. L'azienda ha infatti deciso di trasferire tutta la produzione del packaging a Lucca con il conseguente licenziamento di 66 dipendenti sui 118 totali operanti nel sito produttivo emiliano. L'Assemblea dei lavoratori di Lucca ha proclamato in solidarietà con i colleghi di Bologna un'ora e mezzo di sciopera alla fine dell'incontro che si è svolto martedì mattina con Presidia Cancelli. Si apre ora una fase molto delicata che i sindacati hanno intenzione di seguire in maniera approfondita. Nei prossimi 75 giorni previsti dalla procedura avviata dovremo provare a trovare un accordo, ha dichiarato il segretario provinciale della FIOM Mauro Rossi, per ridurre al minimo i danni per i lavoratori che sono purtroppo pesantemente coinvolti. La trattativa si svolgerà a Bologna dove è stata aperta la procedura e vedrà protagonista la relativa RSU. Ma noi, ha concluso Rossi, dovremo cercare di dare una mano per far sì che l'esito possa essere quantomeno accettabile. Contemporaneamente verrà chiesto l'avvio di uno specifico tavolo per discutere e concordare le modalità circa il trasferimento effettivo di quelle nuove produzioni nello stabilimento di Lucca, con professionalità richieste, spazi necessari e livelli occupazionali. Spostiamoci adesso a Banni di Lucca perché a Fornoli sono iniziati i lavori per la nuova Casa della Salute. Sono iniziati i martedì 14 gennaio a Fornoli di Bagni di Lucca i lavori per il nuovo centro socio-sanitario. Si tratta di una struttura attesa ad anni. Si è trattato di un progetto che ha visto nel suo percorso tante difficoltà e che ha visto interessate varie amministrazioni, ma finalmente la conclusione del difficile e complicato iter proprio con l'apertura del cantiere. L'amministrazione comunale al completo, guidata da Paolo Michelini, per l'ASL erano presenti Nicola Ceragioli e Franco Chierici, nel corso della serata di lunedì 13 aveva incontrato la popolazione proprio per annunciare la tanto attesa realizzazione della struttura, che come detto nel corso degli anni si era trascinata dietro tanti dubbi e non poche polemiche. Si tratta di un nuovo edificio di 400 metri quadrati che ha visto ASL impegnarsi finanziariamente per oltre un milione di euro, tra la realizzazione dell'immobile e l'acquisto del terreno. Qui ci sarà un blocco dedicato alle attività distrittuali, quindi specialistiche, prelievi, cup sociale e un blocco invece dedicato ai medici di famiglia, ai medici di base. Sarà un'impresa della zona, la Coppia e Coppia, a curare la costruzione dell'edificio progettato per questo scopo da Francesco Rondina. Abbiamo cercato di minimizzare la struttura, soprattutto renderla molto accessibile alle persone anziane, ai disabili, quindi è una struttura tutta a un piano che si inserisce molto bene nel paesaggio. Comunque è una struttura molto tecnologica, colorata, perché quando si va in questi ambienti della salute è bene avere anche un minimo di allegria. Tanta soddisfazione anche da parte dell'amministrazione comunale a completo, dal vice sindaco Pacini al sindaco Paolo Michelini. È una realizzazione di un intervento molto atteso perché riqualifica non solo Fornoli, Bagni di Lucca, tutto il comune, ma anche tutti i comuni limitrofi che era atteso da tantissimo tempo. Giornata Garfagnina per il neo rieletto presidente della provincia Luca Menesini che ha incontrato i sindaci dell'Unione dei Comuni. Il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, accompagnato dal consigliere provinciale eletto sul territorio Andrea Carrari, ha effettuato nella giornata di lunedì una visita ufficiale in Garfagnana, recandosi prima in alcune scuole e concludendo poi la giornata con un incontro istituzionale con i sindaci presso l'Unione dei Comuni. La provincia è la provincia dei sindaci e abbiamo iniziato con incontri territoriali, oggi quello della Garfagnana, con alcune questioni che riguardano il territorio, alcune priorità su strade, scuole e ovviamente un incontro con i sindaci per definire quelle che sono le strategie e quelli che sono i problemi maggiori, sia rispetto alle funzioni fondamentali, strade e scuole, sia rispetto anche ad un processo di semplificazione e di aiuto nella crescita dei sindaci, dei comuni per i servizi che offrono ai cittadini. L'incontro ha permesso inoltre a Menesini di far conoscenza con i sindaci del territorio ma anche di prendere visione delle varie situazioni e problematiche che riguardano questa parte della nostra provincia. Noi abbiamo apprezzato che il Presidente sia venuto qui a incontrare tutti i sindaci e quindi l'Unione dei Comuni della Garfagnana, ha fatto anche un giro sulle scuole che sono uno degli aspetti fondamentali su cui intervenire, in modo particolare la manutenzione quotidiana delle scuole superiori, far stare in sicurezza i nostri ragazzi e poi gli interventi sulle strade, le priorità anche sulla manutenzione per quanto riguarda le strade, in un momento in cui la provincia, grazie anche alla nuova finanziaria del Governo, sta avendo nuove risorse e quindi un segnale di attenzione e di stimolo che noi abbiamo voluto dare al Presidente. E al centro della riunione di Menesini con i sindaci dell'Unione dei Comuni c'è stata anche la questione della mobilità ferroviaria, appunto della ferrovia che collega Luca alla Garfagnana. Cambiamo argomento perché è stata la cooperativa Val Fiorita di Pescia ad aggiudicarsi l'affidamento del servizio di canile per il territorio dell'Unione dei Comuni della Mediavalle dopo la chiusura dell'allevamento, le selvette di cui ci eravamo occupati nei mesi scorsi. A comunicarlo è stato il sindaco di Borga Mozzano specificando che l'impegno sarà per tre anni. I nostri cani, ha proseguito il sindaco, avranno quindi una sede definita, certa e con tutti i requisiti del caso. È nostra intenzione, prosegue il primo cittadino, proseguire anche qua una campagna con le scuole per le adozioni degli animali, ospiti della struttura. E adesso ci spostiamo nel territorio di Camaiore perché c'è stata una bella iniziativa per donare una nuova vita agli alberi di Natale dismessi. Decine di alberi di Natale per inverdire i boschi delle Alpi Apuane. È l'iniziativa Green che ha visto domenica scorsa arrivare un centinaio di appassionati di montagna alla baita Paoli Barsi, nei pressi di Campo all'Orzo, località montana prediletta da sempre dai camaioresi. Gli abeti decorati per le festività natalizie e ormai inutilizzati sono stati donati da alcune famiglie e da alcune serre, insieme a qualche albero da frutto, e ripiantumati nei terreni che sovrastano il rifugio, gestito dall'Associazione Versiliese e Amici della Montagna. Un modo per valorizzare questi alberi e contribuire al verde in alta quota. Approfittando anche della bella giornata che è, facciamo la festa dell'albero, come tutti gli anni, la settimana dopo l'Epifania, si viene su, ieri abbiamo portato su degli abeti, qualche pianta da frutto e stamani si piantano, con la speranza che venga qualche ragazzo per il divertimento, come usavo una volta quando si andava a scuola, noi ragazzi si facevano fare il giorno dell'albero. È un'iniziativa bellissima perché chiaramente ora più che mai abbiamo bisogno di alberi, di aria, perché insomma la situazione è critica e noi facciamo nel nostro piccolo qualcosa, anche per il discorso ambientale, di ecologia e quant'altro, e di sensibilizzazione verso tutti. Ci siamo adoperati anche per la plastica, per combattere l'uso del monouso, abbiamo diverse iniziative in questo senso. Diciamo una goccia nel mare, ma se ognuno fa qualcosa vediamo di riuscire a migliorare la situazione. La festa dell'albero, come viene definita, coinvolge grandi e piccoli ed è ormai una tradizione che porta avanti l'associazione Amici della Montagna. Da anni rappresenta il primo evento dell'anno, la Baita Barsi, già in programma la tradizionale festa di primavera, il primo maggio, e naturalmente la festa della patata ad agosto che taglia il traguardo dei 50 anni. con questo termina la prima parte del TG9, una breve interruzione pubblicitaria e spazio alla pagina sportiva.